In nome di tutti chiedo scusa per la sconfitta, perché è chiaro che ha portato un ulteriore dispiacere aggiungendosi agli altri partiti perse davanti a loro e questo ci riempie di dolore, di rammarico, ci dispiace. Dieci punti dal primo posto, quattro dal secondo e questa la mara realtà del giorno dopo quando la piazza bianco-verde si risveglia con l'amaro in bocca dopo l'ennesimo passo falso al partenio ma quello contro il Messina, un KO condito da una brutta prestazione, ha un sapore diverso un sapore di resa forse per quella che è la vittoria finale del campionato il perché è facile da comprendere, le Vespe non si fermano, il Picerno nemmeno e l'Avellino invece ogni due settimane fa il suo stop and go non basta vincere in trasferta, una compagine che vuole conquistare la Serie B deve farlo soprattutto in casa, soprattutto con le cosiddette piccole e invece il Messina toglie 6 punti all'Avellino il Sorrento passa e vince, il Giuliano pure, la Virtus Francaviglia e la Turri si strappano il punto per non parlare dell'Atina la prima giornata, del pareggio col Foggia e quello col Taranto oltre la beffa al 93esimo contro la Juve Stabia al di là delle pressioni che certamente possono avere il loro peso ma fino ad un certo punto, quello che si denota a quasi 4 mesi dall'ultima vittoria interna è una sorta di incapacità della squadra a dominare ed ammazzare le partite casalinghe le scelte di pazienza contro il Messina potrebbero far discutere nel bene e nel male per due giorni di fila con un centrocampo A2 che non ha vinto un contrasto non ha fatto filtro, con zero occasioni pulite per gli attaccanti mai messi davanti alla porta se non per un'azione personale di sgarbi conclusa malissimo davanti a Fumagalli e poi il solito golletto degli avversari che chiude i giochi e fa emergere una fragilità emotiva esclusiva delle partite in casa L'Avellino prova a reagire qualche volta ma non riesce mai a vincere la partita o a pareggiarla buttando alle ortiche occasioni ghiottissime di conseguenza vincere il campionato così proprio non si può potevano essere tanti gli alibi per mister pazienza che chiaramente non aveva costruito la squadra in estate ma ora a mercato concluso e a calciatori presi con il suo benestare una prestazione del genere così come quella col Sorrento proprio non può andare giù ai tifosi che lo hanno contestato duramente al triplice fischio 3-5-2, 4-2-3-1, 3-4-3 e ancora 3-5-2 si denota anche un po' di caos tattico L'Avellino in casa non sa fare la partita, non sa dominarla, non sa vincerla le occasioni sciupate non bastano e non possono essere una giustificazione se poi non arrivano i tre punti mercoledì sera si gioca nell'infrasettimanale a potenza in trasferta, scongiuri a parte potremmo dire almeno potrebbe esserci la possibilità concreta di vincere